Nuove operazioni della polizia contro lo spaccio di droga in città. Nell'ultimo mese, dall'11 febbraio al 6 marzo, gli agenti delle varie divisioni hanno eseguito su tutto il territorio comunale 116 arresti, denunciato 210 persone, identificato 1764 persone ed espulso 116 irregolari. Sequestrati inoltre 278 kg di hashish e 9.000 euro a frutto di attività di spaccio ed erogate multe per 52.600 euro. In una delle ultime operazioni, gli agenti del commissariato Barriera di Milano hanno sequestrato in un'abitazione 5.000 euro in contanti e 23 kg di hashish che erano nascosti in una cantina con tutto l'occorrente per confezionarla. Un marocchino di 34 anni, grossista che forniva altri spacciatori e si muoveva in bicicletta per le vie di Borgo Vittoria, è stato arrestato nonostante un tentativo di fuga con la figlia di appena tre anni. La piccola è stata poi affidata alla compagna che è risultata all'oscuro di tutto. Grazie. Grazie.